è la nuova consapevolezza per la nostra anima perché ormai sai che abbiamo diviso ego e anima e qui è davvero importante dividere ego e anima per ciò che ti sto per dire perché l'ego è stato istruito, addestrato e condizionato nella maniera esattamente opposta a quella che l'anima sa e conosce da sempre perché quello che ti sto per dire ora è una consapevolezza che nel profondo ti risuonerà tantissimo ma soprattutto che dentro di te sai ma il condizionamento dell'ego ha fatto in maniera tale che tu l'abbia totalmente dimenticato represso o rimosso in alcuni casi ebbene la consapevolezza di cui voglio parlarti oggi è il concetto di non giudizio una cosa che sembra assurda per l'ego umano ricordiamoci che adesso il salto quantico si è diviso su due binari paralleli l'ego da una parte e l'anima dall'altra per poi unirsi verso la fine ma qui viaggiamo veramente su binari paralleli perché l'ego è stato istruito sin da piccolo a fare esattamente l'opposto di quello che l'anima sa da sempre quindi l'anima sa da sempre che ciò che si vive non va giudicato ma va compreso come un'esperienza è questo il principio tutto ciò che accade non va giudicato chiunque incontriamo, qualunque cosa facciamo, qualunque cosa ci viene fatta non va giudicata, va compresa in quanto parte di un piano ma soprattutto in quanto messaggio per farci comprendere meglio la nostra strada l'abbiamo già visto nulla accade per caso allora se nulla accade per caso come possiamo giudicare il prossimo come possiamo giudicare noi stessi come possiamo giudicare gli eventi se nulla accade per caso però comprendi che adesso iniziamo a ragionare per gradi quindi l'anima piano piano riprende possesso delle proprie consapevolezze e a una a una ci stiamo arrivando questo è il caso appunto di non giudizio tutto è esperienza l'anima lo sa l'ego cosa ti dice? sin da quando sei nato sei stato costantemente giudicato uno dei primi concetti che ti è stato infilato in mente è il principio di giusto e sbagliato ma lo impari da piccolo questo sì, questo no prendi l'iPhone 12 di tuo padre lo spacchi a terra questo è sbagliato questo non è giusto sei cattivo addirittura perché poi qual è la cosa qual è l'espressione del giudizio? è l'etichettare quindi cosa accade? io vengo giudicato per qualcosa che faccio per qualcosa che dico per qualcosa che mostro per il taglio di capelli per come mi vesto per i piercing per i tatuaggi per la musica per qualunque cosa vengo giudicato e vengo etichettato dal mondo senza che il mondo sappia tutta la mia esperienza che mi ha portato a diventare quella persona a fare determinate azioni o addirittura a fare magari a volte azioni anche drammatiche tanto per capirci nel concetto di non giudizio questo non è facile perché arrivare a vivere in un concetto di non giudizio è molto complesso perché posso comprendere io non giudico una persona che ne so mi tratta male o che mi risponde male ma quando ti ritrovi magari lo stupratore che stupra e ammazza una bambina di tre anni diventa difficile non giudicarlo ma diventa difficile non giudicarlo se non si conosce la sua storia perché perché se tu andassi a prendere la storia della maggior parte degli stupratori andresti a comprendere che la maggior parte di loro è stata stuprata spesso e volentieri dai propri genitori da bambini o dai parenti o da parenti stretti quindi ricordiamoci che la persona cresce continuando a replicare ciò che ha visto da bambino il bambino nasce che è un un foglio di carta bianco chi ci scrive sopra non è il bambino stesso sono i genitori sono gli eventi sono le persone eccetera allora se ci troviamo in una famiglia violenta in una famiglia in cui il padre picchia la madre stupra la sorella e stupra lui o stupra lei è ovvio che per il bimbo la vita è fatta così mi sono capitate persone con cui ho lavorato le quali erano cresciute prima di tutto in una prima famiglia in cui venivano violentate da bambini quindi il padre approfittava di loro quando erano piccini erano due o tre sorelle che cosa è accaduto scappano e vengono una di loro viene adottata e indovinate che cosa accade anche il padre adottivo fa la stessa cosa a quel punto nella mente della bambina dice ok mio padre era così quest'altro padre era così il mondo è così il mondo generalizza quindi mi devo adeguare così punto finché poi non scopre qualcuno dice guarda che il mondo non è così c'è semplicemente trovato due genitori che fanno la stessa cosa ma attenzione noi adesso sappiamo perché fanno la stessa cosa perché era un messaggio che ti capitava più di una volta finché tu non comprendessi finché tu non arrivassi a comprendere quello che dovevi comprendere quindi capisci ora come se nulla accade per caso il non giudizio è una naturale conseguenza non puoi giudicare innanzitutto se non conosci il passato e soprattutto non puoi giudicare qualcosa che viene per il tuo miglioramento per la tua crescita per la tua evoluzione attenzione spesso e volentieri le cose che arrivano per la tua evoluzione se non sei sulla strada giusta non sono piacevoli possono essere molto dolorose e come puoi giudicarlo? ricordo una volta di una persona che testammo con la macchina chirria aveva un tumore al fegato già abbastanza esteso e già sotto sotto chemioterapia ovviamente sappiamo che il tumore al fegato è causato dalla rabbia il tiro del fegato dalla rabbia dice il detto popolare quindi la mia prima domanda fu con chi sei così arrabbiata da farti venire un tumore e lì si aprì il vaso di Pandora e questa persona cominciò a tirarmi fuori peste e corna della madre quella lì parole parolacce di tutti i tipi la cosa interessante sai cosa cosa accadde? che dopo che sciorinò tutta questa serie di parolacce verso la madre a quel punto dissi ma guarda che il tumore è quello lì devi perdonare perdona quella come fare potrò mai perdonare quella lì quella su quella giù e giù un'altra balangata di parole ho detto vabbè ma tua madre adesso quanti anni ha? e gli fa no è morta tre anni fa come è morta tre anni fa? cioè capiscimi questa figlia nutriva rabbia ira verso la madre morta tra l'altro ne nutriva così tanta da farsi venire un tumore e probabilmente andarla a raggiungere se continua così sarebbe andata a raggiungerla la madre perché alla fine era quella quindi capiamo come il rancore la rabbia l'ira il giudizio perché poi alla fine quello che le diceva non era una rabbia era una balanga di giudizi verso la madre era quella lì quella è così quella è di su quella è di giù senza comprendere magari la sua vita senza magari aver compreso come ha vissuto la sua infanzia senza aver compreso tutto quello che c'è dietro ma soprattutto senza aver compreso che quella madre ha un livello più elevato se l'è scelta lei prima di venire probabilmente e qui entriamo nelle vite passate ma ne abbiamo accennato più di una volta quindi se noi ci siamo scelti i genitori finché non comprendiamo questo diventerà difficile riuscire a non giudicare non solo ma nel momento in cui non comprendiamo che tutto accade per noi quindi finché saremo nella convinzione che è colpa degli altri finché saremo che siamo nella convinzione che siamo sfigati o che è l'ambiente o che è la crisi o che è il governo o che è la nazione o che è di su o che è di giù noi saremo sempre e costantemente nell'ego e non risolveremo mai niente e soprattutto non ci avvicineremo mai sulla vera strada che è quella poi dell'illuminazione animica che poi ci porta a unire le due strade e a diventare un tutt'uno collego e finalmente ottenere tutto ciò che vogliamo non so è una strada difficile ma ti posso garantire che qui siamo già a un livello importante perché nel momento in cui arriverai a esercitarti a comprendere a smettere di giudicare gli altri il mondo è soprattutto te stesso o te stessa che è la cosa ancora peggiore perché il peggior giudice siamo noi stessi ricorda che se siamo abituati a giudicare gli altri è perché noi siamo abituati a giudicare noi stessi siamo abituati lo dicevo prima sin da piccoli a essere giudicati e a giudicare ci dicono subito cosa è giusto e cosa è sbagliato quando siamo bravi e quando siamo cattivi non solo quando andiamo a scuola aggiungono il carico e ci insegnano ci istruiscono ci addestrano a essere giudicati per i compiti per il comportamento per il modo di vestirci ma soprattutto veniamo giudicati male se aiutiamo gli altri quindi ci confermano e ci installano ancora di più il principio di competizione invece che di aiuto al prossimo di tenerci le cose per noi invece che darle di essere più bravi degli altri di usurpare gli altri di sopravvaricare gli altri perché così si va avanti quindi e poi poi arriva la chiesa e ancora giù la chiesa poi per il top per 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 il giudizio divino le cose giuste il peccato vabbè neanche stiamo a raccontarlo quindi comprendi che mentre l'ego viaggia su un giudizio costante degli altri del mondo di se stesso l'anima viaggia su un non giudizio viaggia su un non giudizio e utilizza questo non giudizio per osservare ciò che accade dentro di me fuori di me attorno a me alle persone che incontro alle persone che esistono nel mondo non per giudicarle ma per apprendere per comprendere e per essere grata del messaggio che questi messaggeri portano ricordiamoci che nulla accade per caso se mi arriva una malattia è la cosa più giusta per me perché probabilmente non ho ancora compreso qualcosa se mi arriva una persona che mi fregherà che mi farà del male che mi ruberà o quello che sia è quella più giusta per me perché in quel momento mi serviva per quello mi serviva per svegliarmi da quella corsa dell'ego inutile per potermi per poter passare quindi per aiutarmi a passare dall'altra parte spesso e volentieri questa è una è un'esperienza comune di molte persone che hanno avuto la vera svolta della loro vita io sono stato il primo concomitante con degli eventi estremamente drammatici fallimenti aver perso tutto come è stato nel mio caso per altri sono stati incidenti mortali in alcuni casi semi mortali malattie gravissime ebbene moltissime persone ti racconteranno che quell'evento quella tragedia se lo vediamo da un punto se lo giudichiamo da un punto di vista egoico in realtà è stato il loro più grande dono perché da lì la vita si è svoltata quindi iniziamo a sforzarci perché dobbiamo fare un grande sforzo perché l'ego continua a giudicare costantemente sta giudicando anche tutto quello che sto dicendo io in questo istante quella è la cosa interessante se tu ti fermassi un attimo a ascoltare la tua mente interna avrai notato come lei stessa ha giudicato tutto dal in maniera automatica potrebbe aver giudicato i capelli il vestito la maglietta la postura tutto potrebbe aver giudicato le parole che dico potrebbe aver giudicato anche attenzione giudizio è è qualcosa che va oltre l'osservazione ok osservare senza giudicare è quello che dobbiamo imparare a fare metterci del nostro è giudizio cosa vuol dire questa persona sta usando dei toni più alti e acuti nei miei confronti è un'osservazione questa persona ce l'ha con me de stronzo è un giudizio ok sono due cose sono due cose totalmente diverse ma mentre la prima è un'osservazione pura questa persona sta usando dei toni alterati nei miei confronti perché per come se io gli rappresento magari il padre o lo zio con cui aveva litigato se io assomiglio a qualcos'altro se ha litigato con la moglie o se il criceto ha avuto una colica renale la mattina e non lo sappiamo noi non lo possiamo sapere noi possiamo semplicemente osservare che quella persona di fronte a noi in questo momento sta avendo dei toni alterati osservazione pura questo è l'esercizio che ti sto dando in questo capitolo osserva senza giudicare da lì a osservare a interpretare in base ai nostri filtri che ormai dovresti sapere come funzionano infilare questa questo tono di voce più alto questo tono di voce più rude più acuto quello che sia andare a cercare nel nostro riferimento interno mio padre quando aveva questi toni poi vi menava perché era incazzato perché chissà insomma ovviamente cosa facciamo prendiamo l'esperienza esterna la passiamo attraverso i nostri filtri interni giudichiamo pazzesco assurdo per alcuni versi quindi l'esercizio che dobbiamo fare è fermarci all'osservazione noterai che è quasi impossibile all'inizio perché la tua osservazione parte immediatamente il questo processo di giudizio ebbene l'esercizio per questa volta per questo capitolo è proprio questo ed è un esercizio costante che dovrei fare per sempre so che per sempre dirai per sempre vuoi cambiare davvero la tua vita è un per tu hai fatto per sempre da quando sei nato il giudizio adesso da oggi in poi dovrei sperimentare il per sempre da ora in poi del non giudizio ti ripeto è difficilissimo ma se cominci a osservare e fermare la mente prima che inizi il processo di giudizio già siamo un gran passo avanti e potremo andare alle nuove consapevolezze non solo ma nel momento in cui io noto qualcosa nel mondo circostante una persona che io penso sia incazzata penso sia incazzata perché interpreto determinate cose invece di giudicare posso fare una domanda più utile e ormai sai come si fanno le domande soprattutto se poi hai studiato il corso di pnl le domande le domande metamodello sono fondamentali quindi se vedo una persona che ha un determinato atteggiamento non sto lì a giudicare ma mi fermo e le chiedo scusami ce l'hai con me per qualcosa oppure noto meglio ancora dei toni alterati ti sta dando fastidio qualcosa di me o anche perché ricordiamoci che è una cosa che il giudizio comporta come 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 sottostante se si può dire così è il fatto di non dare un feedback all'altra persona e non dando un feedback all'altra persona quella persona non crescerà mai perché non si renderà mai conto di quello che sta accadendo ad esempio se non so un esempio pratico no ragazzo insicuro che si si impalestra si e inizia ad avere degli atteggiamenti che secondo lui sono da figo ok cosa accade che se le donne che incontra gli confermano il comportamento cioè lo servano ci chiacchiano magari ci vanno anche a letto forse stanno stanno confermando il suo comportamento ma nessuna di loro gli dice certo questo è proprio un becille c'ha dei bei muscoli ma me lo trombo un giorno ma poi è veramente idiota non glielo diranno mai non glielo diranno mai perché dall'altra parte loro stessi hanno paura di essere giudicate sono cose queste io te le racconto ma sono cose che sono accadute ovviamente quindi ritorniamo al discorso del prezzemolo nei denti è opportuno che in un mondo ideale le persone si scambino feedback si scambino feedback il feedback non è un giudizio non è un'interpretazione non è un tu hai detto tu sei tu hai una sorta di qualcosa di accusatorio è un feedback ti sto facendo notare che rispetto a prima stai usando un tono di voce più alto come mai te lo chiedo questa è un'osservazione ed è un feedback diverso è perché sei incazzato con me che t'ho fatto questo è un'interpretazione di un evento che non c'entra assolutamente niente oppure peggio ancora pensi che la persona che ha alzato il volume della voce sia incazzata con te e non dici niente e continui la giornata incazzandoti e restando male perché pensi che quella persona sia incazzata con te quindi adesso cominci a capire un po' il giudizio che bordello crea all'interno della nostra mente e questo lo fa ogni singolo istante ok quindi chiudiamo questo capitolo perché se no come al solito parlo troppo esercizio per questo capitolo osserva appena la tua mente parte nel suo principio giudicante bloccala fermala lì fermati all'osservazione e se l'osservazione è rivolta a qualcuno fuori di te fai domande senza giudizio attenzione questo è un secondo esercizio ovvero inizia a generare una comunicazione che non sia giudicante ma che sia osservante che sia un feedback non solo che sia un feedback ma che sia un feedback coerente dal punto di vista non verbale ok perché una cosa è dire ho notato che tra dieci minuti fa e adesso hai alzato il tono di voce come mai ok ci sta è un feedback ho notato questo ti chiedo la spiegazione è diverso se hai alzato la voce che c'hai eh di che ha fatto che sa perché capisci che il tono è uno è un feedback ho alzato la voce uno è perché sei alzato la voce che cosa ti ho fatto ah strozzo la coerenza del comportamento non verbale deve esserci anche lì quindi devi avere solo feedback conosco persone che sono cresciute in un mondo in cui venivano costantemente accusate costantemente giudicate costantemente cazziate con un tono di voce sempre arpigno arcigno eccetera non so neanche si può dire arpigno non è il caso l'ho inventata io adesso ebbene queste persone ricreeranno quel tono e non se ne accorgeranno quindi bisognerà ricordarglielo costantemente farglielo notare nella speranza che quella persona non se la prenda perché andrà a far rientrare in atto il processo che da piccolo era accaduto perché da piccolo veniva sempre cazziato giudicato eccetera e quindi col feedback puoi far notare questo alle persone e puoi aiutarle ad evolverle ovvio che lo puoi fare in un ambiente in cui due persone guardano il salto quantico e si mettono d'accordo tra di loro perché cioè si mettono d'accordo creano proprio un accordo per crescere assieme perché se lo fai in giro perdi gli amici perdi il lavoro perdi tutto quindi vieni preso per matto e ti ripeto non è facile quindi innanzitutto comincia a farlo con te stesso ma soprattutto non solo ferma all'osservazione senza passare al giudizio ma verso gli altri ma soprattutto farlo anche verso te stesso perché mentre con gli altri li giudichi quando li vedi la maggior parte del tempo anzi 24 ore al giorno 7 giorni su 7 365 giorni l'anno tu stai con te stesso con te stessa è lì il delirio è lì dove arrivano i maggiori giudizi quindi da oggi in poi osserva quello che accade fuori ma massima presenza su quello che accade dentro perché i tuoi processi accadono dentro di te costantemente e c'è la vocina giudicante il diavoletto quello che appare nei fumetti che ti cazzo sei un incapace non ce l'hai fatto sei un idiota eccetera eccetera quelli sono giudizi inutili un'osservazione mi ha appena scappato una bottiglia dell'olio e l'ho frantumata per terra sporcando tutta la cucina è un'osservazione la conseguenza dovrebbe essere qual è il messaggio che devo comprendere da una bottiglia d'olio che mi casca in cucina se io mi facessi questa domanda otterrei immediatamente la risposta ok che potrebbe essere adesso l'invento devi lasciar scorrere fluire tutto come l'olio magari riguarda una situazione adesso sto inventando però il principio è questo se osservo l'evento e mi faccio la giusta domanda ottengo la giusta risposta se frantumo una bottiglia d'olio e comincio a dire sono proprio un cretino adesso dovrò perdere tre ore di tempo dovevo fare quello dovevo fare quest'altro che idiota che deficiente ma che c'è le mani di burro questo è inutile è perfettamente inutile quindi la nostra anima ci ha fatto frantumare una bottiglia quindi abbiamo perso la bottiglia d'olio abbiamo perso le due ore successive perché non abbiamo imparato il messaggio questo è quello che ci accade costantemente ok quindi avevo detto mezz'ora fa che avrei chiuso questo video chiudiamo questo video con l'esercizio osserva 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 e fermati all'osservazione e crea una domanda funzionale all'evoluzione bello fa anche rima esercizio del giorno osserva e fermati all'osservazione e crea una domanda funzionale all'evoluzione ci vediamo all'evoluzione all'evoluzione